Ma chi cacchio state a fa'? Chi cacchio state a fa'? Porca boia, veramente Tra Milano e Juve io non so Chi sta giocando a non andare in Champions Chi lo sta facendo meglio Solo che loro hanno giocatori migliori Ma è incredibile Cioè, questo è lo schifo dello schifo Da giocarsi lo scudetto Al Dire addio alla Champions Abbiamo fatto sembrare il Lazio Trovo una bestia Quando invece è così così Non è così forte, ragazzi, il Lazio Il Napoli li ha distrutti È vero che contro il Napoli C'erano qualche episodio Però anche qui Cioè, bisogna sempre stare attenti Sempre Mandzukic, cioè io metterei Hawke al posto di Mandzukic Non si capiscono gli schemi Non si capisce niente Non si può far girare la palla Magari dall'altra parte per provare ad aprirli Ma cos'è? Tutto il tempo bisogna stare attenti Perché poi quei piccoli episodi Decidono la partita E abbiamo meritato di perdere E non meritiamo di andare in Champions Ora, ora, no Sono solo distrutto Però lasciatemi in pace E non è così